Erzatto E ti mette le ali Dunque davvero dopatissima Un po' tipo la Sattoga Però ovviamente la Sattoga è molto meglio E quindi è davvero bellissimo poter fare motocross con questa moto pazzesca Davvero è qualcosa di eccezionale Come sempre queste mod sono davvero molto interessanti E se volete scaricarvela vi lascio il link al suo video Dove trovate maggiori informazioni al riguardo Comunque davvero i miei complimenti Poi fra l'altro questo francese aveva già fatto il jetpack Che abbiamo visto un po' negli scorsi video Qualche tempo fa Alche settimana fa E mi dispiace se oggi non sono riuscito ancora a portarvi l'ultima rapina Da diversi giorni che sto davvero lottando per poterlo fare Ma un giorno lagga Un giorno ci stanno, siamo scarsi noi Non riusciamo a fare delle missioni Poi oggi siamo appunto all'ultima missione Cioè oggi, oggi quindi ieri Perché sto registrando questo video di martedì No, mercoledì, il giorno è Sì, di mercoledì Pensate come sto messo E c'è il diluvio a Roma Un diluvio davvero forte Purtroppo non tutti noi Dobbiamo fare questo colpo Abbiamo una connessione forte Quindi col diluvio Ci distruggono Ci distruggono e cadiamo durante la missione Non riusciamo quindi a completarla Comunque nei prossimi giorni Spero domani Spero domani Pioggia permettendo Arriverà questa dannata rapina E vabbè Comunque Chiudiamo questa parentesi Stavamo parlando di questa moto Vedete ha delle prestazioni ottime Una buona tenuta di strada Adesso sono le prestazioni della Sanchez E davvero Fa davvero il suo effetto A fascino Con questa verniciatura Della Red Bull E che dire ragazzi Magari se c'è anche qualche modder Che sta guardando questo video Se fa delle mod interessanti Può Diciamo farmele valutare Io poi faccio un video sul mio canale Così che Lui Ci guadagna Perché ha un po' più di visibilità Rispetto A quella che otterrebbe da solo E io Ovviamente Mi diverto pure a registrare qua E ci guadagno con i miei video Quindi un rapporto di partnership Incredibile E niente ragazzi Bellissima poi questa zona qui Dove poter fare motocruise Motorola Il telefono Olè Che atterraggio Attenzione E vabbè ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto In tal caso lasciate un mi piace Commentate e iscrivetevi al canale Se non lo avete già fatto Vi ricordo anche di seguirmi Su tutti i vari social media Che grande 360 che ha fatto Giro della morte Come Twitter Facebook Instagram Ask E tutto quello che volete Trovate tutti i link in descrizione Ci vediamo Al prossimo video Che speriamo sia la rapina Ciao 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 Ciao